Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Chiara Ferragni e Fedez sono ancora in fase di divorzio, ma il nome di Silvio Campara è sempre più presente come possibile nuovo amore della famosa influencer. Le amiche di Chiara hanno rivelato che la relazione tra lei e Campara sta diventando sempre più seria, con la Ferragni che si sente innamorata come un adolescente. Secondo quanto riportato da alcune fonti, Chiara si sente protetta da Silvio, che a sua volta sembra frenare un po'. I tempi della loro relazione a causa delle questioni legali legate alla sua separazione dalla ex moglie. Silvio Campara, amministratore delegato di Golden Goose, è una persona riservata e sembra voler risolvere prima le questioni personali, prima di rendere pubblica la sua relazione con Chiara. Tuttavia, sembra che i due stiano prendendo sul serio la loro storia d'amore, con Chiara pronta a rinascere sia sul fronte lavorativo, con nuove collaborazioni. Che sentimentale dopo il divorzio da Fedez. Campara, con il suo ruolo di amministratore delegato di un'azienda di successo, potrebbe supportare Chiara anche dal punto di vista lavorativo. Insomma, sembra che tra i due ci sia una vera e propria sintonia che potrebbe portare a una relazione stabile e duratura. Resta da vedere come evolverà la situazione, ma per ora sembra che le rose stiano...